Ma hai detto bene, clima surreale, poi in questo palazzetto che ha visto anche il professionismo è stato veramente surreale giocare qua, detto questo poi quando c'è stata la palla 2 abbiamo cercato di fare il meglio possibile e direi che tutto sommato ci siamo anche riusciti. Sono i due uomini franchigia per usare un termine americano, Alex per noi è il nostro faro, la nostra guida e quando poi è uscito ci siamo compattati e abbiamo cercato di fare il meglio che potevamo, sicuramente la partita poi l'abbiamo indirizzata sui nostri binari, non siamo stati mai quasi impensieriti tranne qualche minuto alla fine un po' di caos ma ci sta comunque abbiamo tante scommesse in campo, i nostri due playmakers in due fanno 40 anni quindi fanno l'età di Benzoni quindi direi che ci può stare. Mi spiace onestamente che sia uscito Benzoni perché è sempre bello giocare contro di lui come lo era dieci anni fa quando facevo l'assistente in Robur, spero non si sia fatto niente di male detto questo sicuramente la sua uscita ci ha favoriti perché è un giocatore in questa categoria ancora fa la differenza e ne fa tanta. La condizione fisica sicuramente, come hai detto tu prima è un campionato strano non soltanto per il pubblico ma anche per il livello di preparazione che abbiamo, la concentrazione in alcuni sprazzi abbiamo fatto veramente male e poi i tiri liberi, mi hanno tirato col 30% i tiri liberi e non è una cosa che possiamo permetterci soprattutto in questo tipo di partite. Approfitto per l'occasione, ti ringrazio per l'intervista per dedicare la vittoria a Polino Lombardi, è un caro amico, è un ex anche dei Knights e lo abbraccio lui e tutta la sua famiglia e spero di abbracciarlo presto dal vivo quando si potrà.